Se quanti potessero parlare è un progetto di comunicazione che nasce in maniera veramente casuale. Io prendo dei quadri e faccio parlare i personaggi dei quadri. È un progetto che ha avuto un successo incredibile su internet, da questo progetto sono nati quattro libri, più una traduzione in un'altra lingua, insomma. Ma la parte più bella è sicuramente quella di scatenare ilarità, ma anche già soltanto un sorriso. Io ogni volta mi sento super vincitore quando accade questo. La parte più difficile ovviamente è quella di relazionarsi con la gente, nel senso che è difficile avere il controllo di così tanta gente. Quindi poi inevitabilmente magari c'è quello che non ti capisce, c'è quello che ti insulta per partito preso a prescindere. Diciamo che quella parte è un po' più difficile, ma fa parte del gioco. Quindi c'è comunque un risvolto della medaglia più o meno importante, che bisogna insomma imparare a conviverci. Come fanno colazione? Fanno colazione insieme a un quadro dedicato, che avrà un tema proprio appunto in base a queste colazioni, quindi il primo tema, quello di oggi, era sport e digitale. Tutti quanti i vari appuntamenti avranno un tema e avranno anche un quadro dedicato, che io insomma pubblicherò sui miei vari canali, e quindi ci sarà questo dare avere fra me e voi.